Buongiorno a tutti i miei 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 drake clan, io sono Are, se sono qui finalmente ritorno su Call of Duty Modern Warfare Remastered Oggi ragazzi siamo qui per farvi vedere una clip e farvi vedere che ho raggiunto il prestigio 2 su Call of Duty Modern Warfare Questa clip che è stata appunto vedere è un clutch che ho fatto, anche se ho fatto un clutch però non ho vinto il round Nel senso che ho fatto fuori tutta la squadra avversaria ma non sono riuscito a disinnescare la bomba Comunque, la clip è comunque riuscita bene perché mi sembra che ho ucciso 4 o 5 Ora non mi ricordo anche se mi aveva dato il ride quindi penso che abbia fatto un clutch da 1 vs 5 Comunque ragazzi siamo appunto qua nella clip in cui prestigio e vi faccio vedere qua che mi mancavo tipo 200 punti esperienze per salire E raggiungere il prestigio 2 quindi ho deciso di fare un death match a squadra veloce per appunto prestigiare E vi ho voluto far vedere in quel esatto momento Comunque ragazzi ho usato il punto sblocco per sbloccare la Desert Eagle Commando E anche l'ultimo cecchino che non mi viene là il calibro 50 che non mi viene più il nome E il Barrett ecco mi è venuto il Barrett 50 che ho usato appunto il Barrett che si sbloccava il 43 E la Desert Eagle Commando perché si sblocca solo al 55 ogni volta che prestigi non ce l'hai più E proprio non te la fa neanche vedere è praticamente assolutamente la Desert Eagle È uguale identica ma c'è una mimetica tutta sua E quindi ho deciso di usare questi due punti sblocchi per queste due cose qua Perché sto cercando di fare anche i check-in reali che vi porterò anche un video Comunque ragazzi questo appunto è il video Vi volevo solo far vedere che appunto ho raggiunto il prestigio 2 Perché uno o due iscritti mi avevano chiesto che punto ero su Call 4 E ho deciso appunto di farci un video Comunque ragazzi spero che questo video esca intero Perché ho avuto problemi con l'app che uso per editare Spero che comunque sia andato tutto a buon fine E niente ragazzi spero che comunque il video vi sia piaciuto Che la classe vi sia piaciuta E noi ci vediamo probabilmente domani con un prossimo video Quindi lasciate un like, un commento Più il commento che il like Mi piacciono più i commenti Bella raga